allineamento che va a completarsi e inizia a prendere velocità la macchina ottimo l'allineamento un po' arretrato Ramses degli dei galoppe numero 3 Ribéry ed è proprio Ramon che la spinge la macchina nei confronti di ritmo griff rientra bene il targato Lewis poi serra da tutti i lans all'argo Ramses degli dei si va al lancio notevole in 14 ma punta in avanti Tony Young con il suo ritmo e vuol fare ritmo alla gara il targato griff infatti sopra avanza l'avversario il 10 di galoppo ma gli rientra il targato Lewis si deve adeguare Tony 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 Young corre al comando il maschile Enchi di Paolo Romanelli completamento dei 600 iniziali che se ne vanno nell'ordine del 44 e 7 in seconda posizione Rattutil poi Ramses degli dei rimane scoperto quindi l'allievo di Tony Young ora amministra il vantaggio il leader si va al completamento del mezzo miglio passato in 1 e 2 e cavalli che affrontano il penultimo rettilineo allunga il maschile Enchi mantiene il comando rientra bene l'ans di Marucci si va alla gettonatura del chilometro passato nell'ordine del 17.315 un po' di spiccioli la frazione per il momento controlla tutto e tutti Ramon Lewis curva finale frazione redditizia in 14 e qualche spicciolo chiaro vantaggio di Ramon avalia completamente la curva finale viene via ruggito vuole il ruggito il targato GSM ma allunga controlla Ramon controlla controlla no problem no stress no stress no problem alla grande ruggito che appariglia ma non riesce a battere l'allievo di Marucci 2-1-4 il probabile arriva sul mio cronometro un due minuti abbondante un cost-to-cost raffinato da parte di Paolo Romanelli di questo targato Lewis maschili anche il papà va al comando fa anche un po' di stop stop e go go e stop ma indirittura se ne va se ne va se ne va migliora la grande in pista di un chilometro questo targato Lewis l'avevamo visto sempre all'Opera Trieste ma oggi al Garigliano sembra un cavallo veramente notevole Ramon Lewis in questa quinta mentre per il secondo è ancora Ratutille per la gioia di Marucci che ha condotto al risparmio ma fa su e la seconda moneta su un ottimo ruggito arrivato a bomba abone al risparmio abone 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 abone